è gelo ragazzi ma che cazzo ci vede in fretta? che fredda che fredda si può dare un po' di polio? si si può si può si può dare un po' di polio se vede questo e' subito iscrivete le impie i i i Grazie a tutti Grazie a tutti